Buongiorno, ci troviamo nel quartiere di Nervi, in una palazzina adiacente alla chiesa dell'Assunta, quindi molto comoda al lungomare. Andiamo a vedere questo immobile che si trova a un piano alto, dotato di ascensore e ristrutturato anni fa. Abbiamo una porta blindata, abbiamo un bellissimo parche. Procediamo, abbiamo a destra una cabina armadi, abbiamo questo soggiorno grande. Qua abbiamo una pratica dispensa, il immobile è dotato di aria condizionata, il riscaldamento è autonomo dai bassi costi di gestione. Abbiamo gli infissi di ultima generazione. Proseguendo, abbiamo una cucina grande. Qua abbiamo un bel balcone. Quale sia anche un bello scorso mare. Qua l'intria. Questa è la porta blindata, videocitofono, impianto di filodiffusione. Un'altra dispensa molto utile nel nuovo appartamento. Bagno meraviglioso, con riscaldamento di design. Proseguendo, abbiamo la camera matrimoniale, anche questa è dotata di aria condizionata. Eccoci qua. Pilogando, abbiamo il soggiorno, abbiamo una cucina grande e abitabile, che potrebbe diventare una seconda camera. Spostando l'angolo cottura in soggiorno. Qua finisce il nostro video. Io. Ok.